Nathalie, Nathalie, non sto più nella pelle. Non l'ho ancora detto a nessuno, ma il mio sogno diventa realtà. Ciao! Hannibal, lo sai che quest'anno vado a Hollywood per seguire la magica notte degli Oscar? Sei contento? Posso vedere le sue credenziali. Gulliver, sono troppo felice! Stringimi forte! Oh, non è necessario. Invece facciamo così. Lo colpisci con il tuo pugno. Così? Yeah! Dovrai venirmi a trovare. Sì, d'accordo, Giorgio, però ora devo andare. Mi parte il volo. Chiamami se ti senti solo. Mi sento solo. Los Angeles, sto arrivando. Signori e signori, un annuncio importante. Vi aspetto tutti ad Hollywood con le più grandi star per vivere insieme la notte degli Oscar su Sky 1 e Sky Cinema. Ma stiamo andando a fare shopping? Dovremmo avere dei fucili, cazzo. Dioltre. Ciao! Ciao!